. 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 ha detto al governo che ora è confermato che i sogni liminali diventeranno un atto di violenza contro le persone. A causa dei sogni liminali, nelle Americhe e in altri paesi in Europa, il governo italiano ha ordinato di vietare immediatamente ai viaggi di trasporto di entrare e uscire dal paese. Ciò proteggerebbe l'intera popolazione dall'attacco della liminalità. I membri del Senato e della Camera si sono informati e presto si apprestano ad avviare le necessarie azioni. Anche il presidente del Consiglio dei Ministri viene tenuto aggiornato. Grazie.